Arriva a quattro il numero di candidati a sindaco della città di Pesaro con la presentazione avvenuta presso l'hotel Flaminio di Fabrizio Oliva, che ha deciso di scendere in campo sostenuto dalla sua lista civica Spazi Liberi. Hanno aderito liberamente, voglio dire, tante fasce e tante categorie, i giovani, le donne, gli imprenditori e si chiama appunto Spazi Liberi perché non ci sono correnti di partito, due esponenti di un partito hanno deciso autonomamente di candidarsi all'interno della lista, per cui la lista è civica e apartitica. Per quanto riguarda il programma elettorale, i nostri quattro punti principali sono il turismo, i giovani, lo sport, la cultura e il sociale. Non entriamo nel merito di polemiche con le passate a gestione e con gli ultimi dieci anni di Ricci, ma noi diciamo quello che vogliamo fare. Noi vogliamo rendere la città accogliente, fare un nuovo lungomare per quello che riguarda la spiaggia di Ponente, vogliamo risolvere il problema del Genica che ha generato tra l'altro quest'anno una cattiva sorpresa che è quella della bandiera blu non tolta e non vogliamo avere quindi un lungomare di serie A, un lungomare di serie B, hanno ragione i bagnini e quindi dobbiamo lavorare per risolvere questo problema e per ottenere già dal 2025 la bandiera blu. Chi dice che comunque si verificherà nel merito perché abbiamo avuto la bandiera, ci è stata tolta la bandiera blu, dice probabilmente delle cose non proprio esatte perché oramai per quest'anno il dado è tratto e quindi rimarremo con una città con due spiagge, una con la bandiera blu e una senza bandiera blu. Poi incentiveremo comunque la valorizzazione della cultura, il collegamento con i borghi, questi borghi peraltro sono un po' abbandonati perché sono privi anche di servizi quindi faremo in modo di dare degli incentivi per chi vuole aprire dell'attività nei borghi. I giornali usano il termine movida, io non amo questo termine, io direi che noi dobbiamo gestire il divertimento e quindi i giovani devono rimanere a Pesaro, vanno indicate i luoghi dove poter divertirsi e socializzare e direi anche che non sono per un Viale Trieste morto ma sono per un Viale Trieste laddove si rispettano le regole. Avevo indicato delle zone a titolo esemplificativo ma sarà frutto di una nostra elaborazione con i componenti della lista avevo indicato sostanzialmente Baia Flaminia, La Vela, Sottomonte, queste erano le zone dove sicuramente non si dà fastidio ma questo non vieta, torno a ripetere, di svolgere attività di svago lungo Viale Trieste. L'importante è rispettare le regole perché non è solo un problema degli albergatori, un problema anche dei residenti.